Al via Pistoia i corsi Inomec 22 ed EcoRail 22 promossi da ITS Prime, la Tecnologie Academy che organizza percorsi formativi biennali post-diploma. Inomec 22 è rivolto ad aspiranti tecnici dei comparti della meccanica e della meccatronica avanzata, mentre EcoRail 22 si rivolge a coloro che vogliono curare la progettazione di sistemi e di rotabili. La particolarità di entrambi i corsi è che alla fine chi ha frequentato il biennio di lezioni con successo avrà alte probabilità di inserimento nel mondo del lavoro. Si parla addirittura di oltre il 90%. Esattamente, la fondazione ha sempre oltre il 90% di placement per i ragazzi che si diplomano e ci aspettiamo dati che eguagliano queste percentuali. Quali sono le figure che ricerca appunto il distretto ferroviario di Pistoia, uno dei più importanti? Ci siamo concentrati su figure che vengano richieste non soltanto dal mercato di oggi, ma da quello del 2024, che è quando i giovani dei corsi 2022 entreranno nel mercato del lavoro, ma in realtà l'abbiamo pensato guardando anche al 2030. Per cui il corso di Pistoia è una chicca da questo punto di vista, perché include il futuro già oggi. È stato fatto un mismatch, cioè un'indagine sulle aziende che hanno formulato una serie di richieste di specializzare ad alta tecnologia tanti dei loro prossimi partner, perché in realtà la figura che va a formare l'ITS è un tecnico di alta specializzazione, quindi è un tecnico che deve avere delle conoscenze di base trasversali importanti, ma poi specialistiche nel mondo della produzione.